Benvenuti nel nuovo Captur Winter Tour con Nuova Comauto e Radio Nostalgia Captur è molto bello, innovativo soprattutto e molto sicuro Molto molto interessante, veramente, sono emozionato perché ho visto una macchina di alto livello E siete qua per il nuovo Captur? Sì Avete già provato? Sì E mi può dire se l'è piaciuto o no? È molto Più esce dal crossover classico, riesce ad avere le sue nuove linee, la sua nuova tecnologia La sicurezza che non va tralasciata e sicuramente ci puntiamo veramente tanto Provate a guidare, si guida benissimo e poi la linea è proprio bella Saremo martedì a Massarosa in Versilia The way I love you The way I love you the way I love you Passiamo a Ruiz